La tua squadra è uno hack? No! Porca puttana! E che cazzo? Dai, non possiamo iniziare così la live. Eh, niente, sorrendiamo. Che palle. Dobbiamo fare remake a sto punto. Ma avessi avuto un altro champion. Che due coglioni. Vabbè. Eh, va bene, dai. Ok. Next time, remake. A me non perdiamo gli LP, no? Scemi. Non hanno voluto fare remake. Ott. Vabbè. Guarda, appena parte... Subito! Questa è la richiesta di Dio, che succede? Accetti questa richiesta di uno sconosciuto? Amore. Marky ha detto, io ho accettato. No, dammi questo e ti banno le ore. Non devo fallire. Grazie. Ci avviciniamo di più al fondo. Oh, qua è comodo anche perché avremo il free speech in realtà, però mi è basta anche ultimo. E va bene. Non mi è accettata. Solo perché dobbiamo fare il recupero forzato, perché abbiamo appena perso 8 LP ingiustamente. Sto giocando spesso ultimamente sto Ezreal, eh? Da posto game basta. Voglio giocare a Evelyn ma fa niente. Annie è un bot? No. Ha aeri e ha l'iconcina da bot. Porca puttata. Pure questa. Ho un game, abbiamo l'Afkar. Il secondo game abbiamo il bot. No. Eh vabbè. Si prende anti-tank Fabio, però il problema è che cosa è peggio? Non lo so cosa sia peggio. In realtà nessuno dei due. Cioè forse è meglio avere un bot, perché almeno... Almeno il team non sorrenda, perché non c'è uno afk. Quindi il team non sorrende ed è meglio. Ovviamente Ezreal support, dato che dobbiamo fare solo trollpick, non lo facciamo a P, perché Ezreal support a P sarebbe la normalità. Quindi lo facciamo a D, che trollpick. Con un nuovo buff Mundo era diventato troppo forte in late. Meno male che lo hanno nerfato. Sì, però solo in late. Che ovviamente aveva di infinito, in base su HP. A sto punto bet on, assolutamente. E' schiacciata la faccia di codice. Codice, ho un'idea per una cosa, poi te la dico. Ma forse non è un bot, sta ridendo. Vedete che ride? Cioè, questo non lo fanno i bot. O è un bot impostato per farci credere che non è un bot che fa queste cose qua ogni volta e poi se ne torna mid. Cioè, ci potrebbe anche essere, geniale. Così ti fa credere che non è un bot. Vieni lì e ride da te, e poi se ne torna mid. Il support è sempre bot. Peccato che non è un support, è un mid. Gino, giovedì viene il mech quindi, ma ragazzi no. Quella maschera non è a... E non ci vengo, non ci vengo il mech giovedì. Mi spiace ragazzi, ho altro impegno. Ho tante cose da dover fare. Ma dobbiamo fare la tua faccia come emote, così la possiamo schiacciare. Oppure un qualcosa di già schiacciato da schiacciare ancora di più. No. Hai sbagliato. Non puoi sapere che cos'è questa cosa, ma è una cosa che... Dirai, oh cazzo, bello. Ma tanti bot sono troppo forti. Non quelli impostati per perdere. Attenzione! Genshin Impact, siamo aumentati 64 su 80. Arriviamo verso il 69. Continuate così ragazzi, almeno il 69 dobbiamo arrivarci. Il prossimo step dopo il 69 è il 90. 5 gold. Lux, non aver paura. Indovina dove sono. Come lo sa. Se prima si vedevano solo Lux in low elo, ora dopo il buff escono dalle fottute pareti. Sì, infatti, dopo il buff adesso ci saranno un sacco di Lux. Oggi sono riuscito a giocare, non so come. Ok. Niente, evidentemente questa prevede tutto. Cosa schiacci, codice? No, il minion ha fatto... Si è messo in mezzo. Incredibile. Ha salvato Ginn, questo minion. Arrivando. Troppo me ne devo andare. Mi dispiace, Catherine. Beh, qualcuno l'ho preso con la culo. L'importante è quello. Perchè lei non dà priorità ai champion? Perchè lei non dà priorità ai champion? Sarebbe morta. Come mai? L'annemico più vicino. Vaffanculo! Una volta non dà priorità ai champion. Mannagina cazzo culo. Ecco. Uffa. Se ha la V da priorità, ok. Se no, no. Dovrebbe dare la priorità se ha la V. A chi ha la V. E poi dopo a priorità ai champion, V, champion, nemico più vicino. Avrebbe più senso, sinceramente. Mi aspetto magari nel giro del prossimo anno questo cambiamento. Motivo per cui non si riesce magari a fare a zero la... Per un minuto. Spammate. Eds. Solo a P perché giustamente questa cosa qua non riesce a prenderla se non hai messo la V prima. Ciao, Outlaw Rambo, buonasera. Oh, ma che cazzo... L'hanno fottuto. Però abbiamo una sub. Grande Tignusatsu. E quindi otto mesi insieme. Let's go, bentornato. Mi se ne frega delle morte. L'importante è che è tornato a Tignusatsu. Era un po' che non ti vedevo. Come stai? Buonasera. Impossibile perché doggiare una spell. A me mi hanno fatto una Q e sono morto. Cioè Lux era stata lì ferma. E poi erano lontani incredibilmente tanto perché c'era la loro wave qui e loro erano qua. Beh, io sono dovuto andare sotto la loro torre per cercarli. Non so, cioè... O hanno 2000 IQ che hanno detto questo qua verrà avanti nonostante la wave è là. E loro hanno preso Expe per due minuti per farmi sto scherzone. Fan Q. Sono un po' arrabbiato. Hanno avuto un'occasione ghiotta per ucciderti e hanno proprio pensato questo. Mmm, ghiotto questo è, zero. Esatto. Ha ignorato il mio Warwick Super? Tu non l'hai visto altrimenti le blank. Allora, dato che l'ho ignorato, le blank. Va bene. E con le blank già meglio. Warwick Super full tank? No, è inutile. Buonasera, ciao al maestro. Sto finendo casa quindi sono molto impegnato. Ok. La fai tu? Cinque gold. La V che procca il pre-strike senza fare danno dà fastidio. Stavo per dire anche questo. Però, dato che hai colpito... Ma sta puttana. Dato che hai colpito un nemico in realtà via. Però, meglio che procchi così, che non procchi proprio. Le tank torno, ho sentito bene? No, non ho mai detto questo. Come fate a sentire cose che non ho mai detto? A volte me lo domando. Ma com'è fatto? Minchia, la Lux più potente del gioco. Vabbè, super difference. Evviva per il ritorno del tank. Sì, che bello. Torno a una cosa che non ho mai detto. Sì, le tank! Lux più fastidioso di Morgana. Sì, perché fa danno a differenza di Morgana. Mi spara pure la W per farmi danno. Ma che cazzo è? Lo fa Trandola, perde il down tank. Ma... c'è una mano, va. Beh, ma che fa Jin? Non spara! Lux far 6 si è morti. Madonna! Che culo ho avuto quello. Oddio, anch'io! Tutti culo. Perfetto. Perfetto. Mamma mia. Vai, codice, è ora di clipare. Comunque, ho non sbagliato uno skillshot. Minchia, sono fortissimi. Anche qua li hanno sbagliati solo perché abbiamo avuto culo recollando. Ah, poi codice, scrivimi su Telegram che c'è da fare una clip di Warwick che oggi Zesty non ha fatto. Il momento di oggi. Diciamo, ha fatto il momento ma non la clip. Si sa che il momento non viene perfetto quanto la clip ha rifatto. Minchia, oh, ma... Cioè, come l'ho fatto? Non... Ma è da lontanissimo l'hanno uccisa. Ma che cazzo sono sti due? Ma dei cecchini. Sì, un sniper, ma che cazzo c'entra, ragazzi? No, sniper e basta. Due sniper. Sì. 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 5 gold. Eh, non esageriamo qua, eh. 5 gold. Non è un brutto champ. Zeref, ascolta l'audio che ti ho mandato su Instagram. È di vitale importanza. Un alberato è stato ucciso. Un nemico è stato ucciso. Ciao, Riggio. Tutto bene, tu? Ma che cazzo è? Oh, c'ho la spell a uso. Riggio, sì, infatti, è rimasta con uno di vita, cazzo. Fastidio. C'hai ragione, caro. Mi ricordo con te. Cazzo è follo, bro. Hai sentito, Zeref, eh? Cazzo è anche della sub, ovviamente. Però. Oh! You're not the boss, Sion. You're not the boss. Cazzo gliene frega lui che non è... The boss. Lo gioco del cazzo da facioli. Ah, non ti piace il gioco? E che cazzo ci fai qua, allora? E come ci sei finito? Oi! Eh, sì, poi? Non lo piga. No, non ci credo. Vabbè. Lo sto comprando io. Ok. Fa senso. Che schifo questo gioco. Gioco un gioco più da Chad. Tipo Fortnite. Tipo Call of Duty o FIFA. Quelli sono i giochi veri. Non i giochi... MOBA. E adesso non c'è più solo fai un lavoro vero, ma proprio gioca un gioco vero. Vai. Vogliamo andarci o no? Annie. Siamo in 40 contro... Guarda questo gioco. Pubblicità. Ricordatevi che col Prime potete abbonarvi gratis. Guarda Beef su Twitch è il miglior streamer dell'esistenza e dice che safe scarso. Ma che cazzo magari probabilmente avete? Eh? Ma non lo so che sono sti bimbi. Cioè, ma che cazzo? E lo streamer è il migliore dell'universo. Ma porca puttana. Non l'ho mai sentito però. È davvero schifo per essere il migliore. Cazzo, noi cosa siamo? Facciamo schifo. Cazzo, cos'è l'abilità? Vuoi bannarlo, codice, non ti preoccupare. Anzi no, fagli il timeout da un minuto. Ah, spam. Così lui continua a restare in live e mi dà la view e divento io il miglior streamer dell'esistenza. Grazie. Grazie mille, Gian Apple. Facciamo così. Sfruttiamo i coglioni. Cioè, io non ci credo. Non ci credo! Non muore nessuno! Sto veramente malio. Vabbè, non conosce nemmeno Kobe Bryant. Sì, vabbè, quindi, cioè... Cosa c'entra con questo ragazzo migliore dell'esistenza? Ah, guarda, ha fatto la W, così. Un nemico è stato ucciso. Cinque gold! Lo fa il mio streamer preferito tuo? I cinque gold? Eh? La tecnica segreta? Non la fa! Perché ho semplicemente detto per questo... Pensa quanto è famoso che nemmeno lo conosco. Non mi sembra un buon metodo di giudizio se non conosci nemmeno Kobe Bryant. Ah, quello è il concetto. Sì, ma Kobe Bryant si occupa di qualcosa di completamente diverso da me, cioè di basket. Quindi vedi che lo conosco. Semplicemente non ho idea del suo volto. Io quello intendo. E non conosco le sue geste. Sa solo che è famoso per il basket. Però non so nemmeno come è fatto. Se è vivo, se è morto. Non so un cazzo. Invece questo qua è il miglior streamer dell'esistenza. Si occupa di un campo di cui io mi occupo anch'io. Cioè, dovrei conoscerlo, no? Per esempio, io non so chi sia il tennista più forte del mondo, però sicuramente tutti quelli che giocano a tennis lo conosceranno. Cioè, è ovvio, ragazzi. Scusate, di cosa stiamo parlando? Buonasera. È logica. Non siete logici? Eh, vabbè. Ah, fanculo. Ciao, mi fa per buonasera. Vi è tornato anche in quattro mesi. Ok. Lez era il più supporto della storia. Eh no, caro mio. Dove credi di andarti? Ecco, tutti morti. Ah, fa cura. No, facciamo gli scherzioni a tutti. Stavo per scrivere le stesse cose. Ah, minchia, codice, hai visto? Mi sa come mai. Forse perché siamo logici. Dai, voglio shottare chi è arrivato. Cosa fa? Cosa fai? Ma sei scemo? Sì. Ok, sei scemo. Questo qua pure non ha usato la logica. Ecco, questo è quello che vi porta. Vedete? E mi pinga a me. Ma cosa vuoi? Ma non puoi fare le torri senza i minion. Non fai danno. È colpa mia. C'è. Il motivo per cui la gente perde su LOL è perché non ragiona. Conoscono Kobe Bryant e perdono al LOL. È ovvio. Ma almeno conoscono Kobe Bryant. Sai che basta. Però mi piace prendere una cosa e renderla molto bene. Non offendetemi. Solo che ci ridiamo sopra. Ehi, cosa fa quella? Neni di merda. Ehi. Cinque gold. Dove giochi tu non conosco nemmeno il padre. Ma chi? Santo padre? O il loro padre? Ma dovete specificare perché ci sono tanti padri nel mondo. Sono arrivati tardi per il momento Vietkong. Eh sì, mi dispiace Dani. Oh, attenzione, arrivano i ragazzi. I ragazzi di Dragonair's, grazie del ride. Sono arrivati tutti i ragazzi. Oh no, che cazzo succede qui? Mamma mia, mi ha preso solo con una spell su 3. Che culo. È tanto in questo gioco una spell su 3, ragazzi. Eh no, è poco in realtà. Se avessi preso con un 2-3 era morto. Ha quelli nuovi di lol che non gli piace lol. Ho difesa con la mia stessa esistenza. Buono. Il support protegge la dcarry a qualsiasi costo. Culetto sederino. Togli sta E. Eh grazie. Buonasera, Dragonair's. Com'è andata la live? Cosa avete giocato? League of Legends? Questo gioco brutto che tutti gli dicono che è brutto. È meglio giocare i giochi da Chad. Tipo FIFA. Eh? Tipo Call of Duty. Oppure è meglio andare a vedere lo streamer migliore dell'esistenza. Non è Kobe Bryant. Ok. Bene. Uniamo tutte le cose. Crossover. Crossover. Ok. Ok. Posto Ah che cazzo succede qui? Devo dire che sta partita Ne sto passando di tutti i colori Sì ma porca miseria Mi stanno Cioè sto affrontando 10.000 pericoli Sto sopravvivendo Prendo un minion carretto E il mio team mi flamma Porca troia Guarda Ma quella lì appena mi vede preme R Ma spero di ucciderla Vendetta Aspetta Buono Qual è il prossimo oggetto? Armor pen Perché loro hanno i tank Se Kobe Bryant Poteva streammare Cosa? È il congiuntivo dici? Eh lo so Vabbè Chi se ne frega Ormai ci faccio abitudine Anche ogni tanto mi sbaglio Da quante volte lo leggo ormai Quindi vabbè Teniamocelo così Se poteva streammare C'è stava un problema de fondo Eh sì Perché avrebbe detto Che sono scarso Molto bene Teniamo ancora Crossover Ciao Danpizza Grazie del follow E della sub Niente Il codice è morto Questa la capisce Solo chi ha seguito Tutto il meme Dall'inizio ragazzi Era sottile Ok Vedi codice Questo è quello che succede Quando muti le live Non è attualmente Potrebbe carriere In questo velo Sì No La sua prima live Su twitch Va proprio questo Sì Mamma mia O non mi danno più soldi Minion Come mai È tempo di vendere L'oggetto da support Quando arriviamo A questo momento Si inizia A fare canestro Via A posto Vedete ragazzi Durante questa partita Ho imparato Chi è Kobe Bryant Voi dicevate Come fai a non conoscerlo Mo lo conosco Eh Avete visto Ora sa una cosa In più di voi No Come voi Perché anche voi La sapevate Adesso la sapete Anche voi Se non lo sapevate Eh non ce l'ho Quelle skin Cosa C'è Ops 5 gold Dottor mondo Rigenerazione salute 599 Cosa vuol dire Io Come fa a pingare La rigenerazione salute Scusami Come la fa a pingare Oh Eh Ah qua 10 Che schifo Cioè recupero 10 di vita Ogni 5 secondi Beccati sta balena Buonasera Zig Come stai Ho visto I tuoi video Tu mi mandi dei video Senza 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 contesto Non mi hai capito perché Ma chi cazzo è Non posso muovermi Forse no Ma nemmeno tu Questa ult Nel dubbio Cioè Ezra con poca Devo fargli capire La support difference Grazie dell'eal 5 gold Ok 5 gold 9 marzo è buonissimo Ottimo score 9 marzo 2019 È un buonissimo score Ma perché è solo Me è ulta Questa Ma che cazzo Di per me ha Questa Lux Basta Mi sento un po' Fotografato Eh non mi ulta di nuovo Non ce l'ha Ah mi ulta Jin Grazie Ottima copertura Ma dall'altra parte Grazie mille Ottimo squadra Ottimo team play Che bravo team Seril da fatto La pilota fa il prank Epico Beh non devono avere un contesto Devono farti ridere Eh però Zig Uffa Questa qua Che mi hai mandato Non l'ho vista bene Perché non avevo l'audio Bisognava averlo Ciao Neopizza Grazie al follo Comunque Davpizza E Neopizza Ma Molto simili Comunque Davpizza Grazie della sub Ci conosciamo Hai riposto su youtube Ora idra E certo Sei un esperto Eh ma eh Possiamo fare anche La shojin in realtà Però Secondo me Dato che non hanno ancora Year reduction O meglio Questo Ma non è così potente È meglio avere Rubavita Però Cazzo La shojin pure è bella Possiamo farle entrambe Solo che il game Non dura abbastanza Per entrambe Perché vinciamo prima Quindi che cazzo Ci domandiamo le cose a fare Tanto vinciamo ragazzi L'importante è vincere Subvia Chi sa Se prendiamo sto drago Poi abbiamo rigenerazione cura Quindi in realtà Possiamo farla a shojin C No Mi hanno rubrati Ho preso qualcuno Brutto Sion Brutto Oh no La miss fortune Del mechago Ehi la Flash Flash Beccati questo E mo E mo Allora possiamo fare Anche la shojin Intanto abbiamo Un drago Dell'oceano Ma come Come slow Tutti Vedete che fastidioso Che è Ezra Che slow Lui si che è un Sulphurt GG Mundo carry Esatto Diglielo Mundo carry Forte Ottima partita Ragazzi Ciao sono ciao Direi ciao Allora buon ciao Anche a te Una fexato Come stai Perché non entrambe Nessuna delle due Alla fine Non abbiamo fatto Né l'hydra Né la shojin Perché il game È finito subitissimo Ed è giusto così Ragazzi Meglio no Ok Che onoriamo Direi che Atelin È stata La più carina La più carina Ok Cosa abbiamo preso S con Ezra GG 33.000 danni Sì Ha creato Mundo Alla fine È quello che Ha fatto Più danno Mundo Fortissimo Ho fatto Il triplo Dei danni Di Caitlyn Di Annie E di Trandor Quindi Tutti e tre Messe insieme Fanno i miei danni Challenge 17 12 22 Score Ma Non devo Fare Questo Ciao In giro Sì 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 Grazie.